allora oggi proseguiamo sul tema delle liste che avete visto introdurre la settimana scorsa abbiamo iniziato a introdurre la settimana scorsa e la settimana scorsa abbiamo cercato di capire cosa fosse una lista quindi che ha degli elementi puoi accedere per indice e diciamo così le cose di base sulla definizione sulla stampa sulla estrazione di elementi da una lista oggi vediamo un po di operazioni da fare con le liste ok qui ci sono un po come quando dici o abbiamo inventato che scopriamo studiamo non sono i numeri complessi vediamo quali sono le operazioni che si possono fare idem abbiamo visto sulle stringhe quali metodi quali funzioni quali operazioni si potevano fare sulle stringhe vediamo che cosa si può fare con le liste e quindi diciamo così e nelle slide trovate diciamo così elencate una serie di di operazioni però anziché andare a guardare insieme nelle slide io ho pensato di fare le stesse cose in modo interattivo ok insieme a voi poi andiamo magari a pescare la slide che spiega questa cosa ma lo facciamo attraverso una serie di esercizi diciamo che ho chiamato di riscaldamento di ginnastica di base diamo ancora di ingrandire ancora un po i caratteri allora ricordiamo una lista la definiamo con una sintassi che usa le parentesi quadre no e all'interno di questa lista possono esserci vari elementi la volta scorsa abbiamo visto che gli elementi di una lista possono essere di tipo diverso nel senso che il primo elemento può essere un numero secondo può essere una stringa e così via ma è una casistica che non useremo quasi mai tendenzialmente avremo delle liste di stringhe o liste di numeri che possono essere numeri interi o numeri reali ma proprio perché se uso la struttura data lista per contenere una sequenza di informazioni queste informazioni tendenzialmente saranno tutte del stesso tipo l'elenco dei nomi l'elenco dei voti l'elenco dei punteggi eccetera eccetera ok quindi nel caso di una lista di stringhe la definisco mettendo le varie stringhe tra virgolette nel caso di una lista di numeri metterò i vari numeri separati ovviamente sempre da virgola in entrambi i casi delimitati da parentesi quadre e quali sono le operazioni di base che già sappiamo fare sulle stringhe ad esempio è vedere qual è la lunghezza del di una stringa ad esempio la stringa tartarughe se stampo la lunghezza di questa stringa mi dice che ci sono quattro ovviamente membri della tartarughe ninja che sono il nome il nostro e e il nostro insieme di stringhe e in particolare ad esempio la seconda la estraggo con l'indice 1 quindi gli indici di queste quattro elementi sono 0 1 2 3 e ovviamente l'elemento 1 è quello che viene elencato per secondo nella stringa infatti viene stampato qua sotto ok questo è ciò che abbiamo visto già la settimana scorsa è abbastanza ovvio che essendo una lista un contenitore di più elementi il numero variabile di elementi tra l'altro quasi tutte le operazioni che devo fare sulle liste dovranno essere incastrate dentro un ciclo quindi se io volessi prendiamo questi altri numeri che sono i punteggi che bagnai ha preso nei vari gp di quest'anno e volessimo che ne so stampare un istogramma che fa vedere questi numeri con una serie di asterischi per far vedere i vari punteggi come potremmo fare e beh ad esempio sulla prima riga dovremmo stampare 31 asterischi sulla seconda riga dovremmo stampare 6 asterischi sulla terza riga 13 asterischi così via ok quindi non c'è un comando per farlo se faccio print di questi punti mi scrive i numeri ma se voglio fare diciamo così un grafico con gli asterischi dovrò a andare a estrarre uno per uno gli elementi di questa lista quindi for pt in punti usando la sintassi del ciclo for che permette di analizzare all'interno di un contenitore questo ciclo for lo possiamo usare per le stringhe e stringhe sono contenitori di singoli caratteri lo potevamo usare per andare a analizzare i caratteri uno a uno nelle stringhe o lo possiamo usare nelle liste che sono contenitori in questo caso di numeri abbiamo una lista di numeri sotto il naso e quindi posso andare a estrarre uno per uno i numeri che sono presenti dentro queste liste e questa sintassi vale in generale per tutti i tipi di contenitori che che incontreremo via via non andando avanti nel conoscere i costrutti e le strutture dati di python e ogni volta ad ogni iterazione di questo ciclo for va a pescare l'elemento successivo e quindi basterà che io dica che voglio stampare un certo numero di asterischi tante quante sono i punti presi in quella partita e viene fuori se non sbaglio una cosa così cioè ho usato in qualche modo in modo così futile i dati di una lista faccio un certo tipo di elaborazione e dovendo lavorare dovendo fare una certa operazione per ogni singolo dato sono obbligato tra virgolette a inserire la singola operazione da fare sul singolo dato cioè stampa tanti asterischi quanti me lo dice il dato all'interno di un ciclo che mi ripete l'operazione per ogni dato presente nella lista ok? queste sono le operazioni se vogliamo che qui l'abbiamo scritta in un certo modo usando il ciclo for per diciamo così ciclare sui valori abbiamo visto la volta scorsa che lo stesso risultato si può anche ottenere ciclando sugli indici con un costrutto che alla fine poi lo scriviamo in automatico ciclando su tutti gli indici che vanno da 0 alla lunghezza meno 1 e quindi costruisco un range che per valore implicito per default se non specifico il primo valore è sempre 0 il secondo valore è la lunghezza il punto di partenza è sempre compreso il punto di arrivo è sempre escluso questa è una regola generale tutte le volte che specifico un intervallo in Python e quindi in questo caso farò la stessa cosa tanto per differenziarlo anziché un asterisco magari stampo un cancelletto tante volte quanti sono attenzione adesso i che cos'è? i è l'indice quindi se io mettessi per errore una i qua dentro vedrai semplicemente la stampa degli asterischi 1,2,3,4,5 anzi 0 perché c'è una riga vuota davanti 1,2,3,4,5 eccetera che è il valore dell'indice in questo caso questa stampa qua se lo vedete non dipende per nulla dal contenuto della lista punti ovviamente non devo fare questo dovrò stampare il punteggio corrispondente all'indice 0 virgola il punteggio corrispondente all'indice 1 e così via e quindi sarà un punti D che in questo caso mi fa ottenere la stessa ovviamente grafico qui l'ho fatto con gli asterischi così mi rendo conto che è un altro grafico ma esattamente uguale come valori quindi per iterare su una lista quasi sempre si usano uno di questi due costrutti itero sull'indice della lista e poi se mi serve il valore dell'elemento lo vado a pescare indicizzando la lista itero sui valori quindi la differenza è che qua l'iterazione ogni volta va a pescare un valore 31,6,13 nel secondo caso l'iterazione va a pescare l'indice 0,1,2,3 ok? ci serve a volte una a volte l'altra dobbiamo padroneggiarle entrambe queste forme fanno la stessa cosa ripetono una volta per ogni elemento la prima è più comoda perché devo scrivere di meno e quindi va sempre meglio la seconda è un pochino più scomoda ma nella seconda forma ho il vantaggio che se mi serve il valore dell'indice ce l'ho i se mi serve il valore del dato ce l'ho lo stesso punti di i nel primo caso se mi serve il valore del dato ce l'ho questo caso l'ho chiamato pt se mi serve il valore dell'indice o cacchio non ce l'ho se qualcuno volesse dirmi ma senti ma a fianco del di questo istogramma scrivimi anche il numero di gara gara 1, gara 2, gara 3 in questo caso non mi costa niente basta che io stampi i più 1 e poi l'asterischi i più 1 perché gli umani contano partire da 1 e non da 0 come gli indici degli array e quindi mi stamperebbe una cosa di questo genere adesso poi per carità non è perfettamente allineato perché da 9 a 10 cambia ma lo possiamo formattare con un fstring se ci serve se mi chiedessero di fare la stessa cosa nel primo punto con gli asterischi non so fare cioè quando io all'interno di questo ciclo di questa singola iterazione ho il valore del punteggio che ne so 31 non ho un modo per sapere quel 31 se è il primo, il secondo, il quinto gran premio giocato se non contandomelo a mano per carità nessuno mi vieta di farmi un contatore che incremento a mano di ogni ciclo ma allora tanto vale a questo punto passare al secondo caso quindi dipende essenzialmente se all'interno del ciclo mi è sufficiente conoscere il valore ottimo così se mi è necessario conoscere oltre il valore anche l'indice per i conti che devo fare allora ci orientiamo verso il più un ciclo sul range di indici poi la volta scorsa sulla slide parlava della funzione numerate che ti fa fare entrambe le cose in un colpo solo ma ci arriviamo la usiamo poi nel contesto quando ci serve allora queste sono operazioni che posso fare su una lista che qualcuno mi ha già dato ma è scritto nel codice ma non succede quasi mai che quando il programma parte conosca già a monte quali sono i valori su cui deve lavorare cioè vediamo un esempio se io voglio gestire con un programma i voti che prendo gli esami prenderò gli esami li posso mettere in una lista ogni elemento un voto però questi voti non mi sa il programma li devo inserire io quindi mi posso chiedere come faccio a leggere da tastiera l'elenco dei voti conseguiti da uno studente e qui poi c'è il dettaglio valori i voti sono dei valori tra i 18 e i 30 e lo studente termina l'inserimento usando un asterisco per dire e memorizzare i dati in una lista cioè devo leggere uno a uno i dati fino a quando non viene inserito un asterisco e metterli in una lista allora leggere dei dati finché non viene inserito un asterisco lo so già fare l'abbiamo fatto tante volte no? prendiamo il voto lo sappiamo fare in 50 modi diversi fatemene fare uno prendo il voto v while v diverso da asterisco voto uguale int di v sperando che sia scritto bene che ne so e poi e poi ascula poi devo fare v uguale input di voto questo è un ciclo che facevamo tante volte poi magari dentro il ciclo calcolavamo la somma, la media, queste cosette qua l'input lo faccio una volta sopra e una volta dentro il ciclo perché la prima volta mi serve per leggere il primo dato controllare che non sia l'asterisco se non l'asterisco entro e ricordiamoci che input mi dà sempre una stringa quindi prima controllo che non sia l'asterisco poi se non l'asterisco converto un intero e mi tengo questa variabile voto che è il numero poi quando torno all'interazione successiva dovrò ovviamente leggere nuovamente un nuovo dato e quindi l'ultima istruzione della prima iterazione di fatto è già la prima istruzione che mi prepara la seconda iterazione mi legge un dato e questo dato andrò a controllare se l'asterisco o no eccetera eccetera no ma questo l'abbiamo già visto negli esercizi sul while dopodiché questi voti erano voti a perdere cioè leggo un voto all'interazione successiva rileggo il secondo voto ma lo vado a sostituire alla variabile precedente io non voglio più avere ogni singolo voto che poi lo dimentico voglio mettere il voto in una lista di voti no? questo vorrei fare in modo che poi alla fine del ciclo while i voti che ho inserito li ho tutti lì e li posso poi andare ad analizzare stampare a fare tutte queste mie belle cose quindi alla fine avrò una lista voti che è uguale a insomma simile a questa dei punteggi ma non la posso scrivere e l'altro vorrò costruire un pezzo per volta allora per costruire un pezzo per volta vuol dire che io all'interno di questo ciclo while avrò immaginiamoci di essere di avere 10 voti e di essere la metà dell'esecuzione del programma quindi ho già inserito 5 voti non so come ma ci sono già sto inserendo il sesto cosa vuol dire? vuol dire che devo prendere una lista che finora conteneva 5 voti ho il mio numero 28 e lo devo aggiungere quindi è un'operazione di modifica di una lista aggiungendo un nuovo elemento ok? questo si può fare è una dell'operazione di base da fare con le liste attraverso il metodo che si chiama append voti punto append voto supponendo che voti sia la lista che contiene i miei voti il metodo append di un oggetto di tipo lista permette di aggiungere un elemento a una lista esistente questa lista crescerà di una posizione di una dimensione avrà 5 elementi ne avrà 6 e il nuovo elemento che aggiungo è quello che ovviamente è argomento ho messo qua tra parentesi come argomento del metodo append quindi leggo un voto lo aggiungo leggo il secondo lo aggiungo leggo il terzo quando lo inseriti tutti li avrò tutti quindi qua alla fine potrò provare a vedere cosa è uscito in termini di voti adesso questo programma non parte anzi con voto 25 poi lui si blocca ovviamente perché quando arriva alla riga 36 mi dice guarda che il nome voti non è definito chiaro perché il primo voto che inserisco dovrei aggiungere il primo voto a una lista che non esiste ancora cioè la prima volta che prendo un voto non sto aggiungendo ai voti precedenti perché non ce ne sono sto creando la lista da zero con un primo elemento oppure molto più semplicemente posso dire che prima dell'inizio dell'iterazione inizializzo la lista a una lista vuota cioè prima di iniziare a leggere i voti preparo già il contenitore la lista in cui andranno a finire questi voti e quindi definisco una lista voti uguale aperta quadra aperta quadra in python vuol dire crea una lista cosa c'è dentro questa lista che sto creando? niente perché subito dopo c'è una chiusa quadra è un po' come la stringa vuota la lista vuota che è una lista come tutte le altre noi non facciamo discriminazioni a zero elementi ma pur avendo zero elementi è una lista come tutte le altre e quindi posso aggiungere il primo il secondo il terzo il quarto elemento e quindi se io facessi un run qua e inserissi dei voti 20 21 22 e poi metto osterisco alla fine mi stampa che questa lista contiene 20 21 22 cioè i tre valori che ho inserito se le vogliamo vedere più da vicino possiamo andare in modalità debug abituiamoci a farlo quindi cliccando qua mi viene il pallino rosso che è il breakpoint quindi ferma l'esecuzione del programma per fare run anziché cliccare sul triangolino facciamo lanciamo il debugger e quindi mi fa esegue il programma fino al breakpoint e poi si ferma sulla sinistra vediamo le variabili del programma man mano che vanno avanti allora qui vedete che la variabile voti non c'è ancora ci sono le tartarughe i punti eccetera ma quelli arrivano da prima non ci interessano fammi andare giù io eseguo la riga 32 attraverso questi controllini sopra in particolare questo qua step over va oltre esegue l'istruzione successiva poi questi altri due li vedremo quando studieremo le funzioni il primo fa riprendere l'esecuzione del programma fa un run il secondo esegue un passo solo f10 un passo esegue l'istruzione alla riga 32 questo freccia qui questo sì simbolo alla forma più o meno di freccia mi indica qual è l'istruzione che il programma sta per eseguire quella della riga 32 è già stata eseguita vedete che qua a sinistra tra le variabili è comparso voti che è una lista aperta e chiusa a quadra se vado a vedere mi dice che la sua lunghezza è 0 e non mi aspettavo e non mi aspettavo diversamente poi se faccio ora eseguo la riga 33 il programma si ferma in attesa che inserisca il voto 27 invio e quindi compare la variabile v che è 27 sotto forma di stringa apice 27 apice controllo se v è un asterisco e non lo è e quindi questo ciclo while ci entro dentro ok ci sono entrato dentro adesso prenderà v che vale 27 e crea la variabile voto che vale 27 come numero quindi la differenza tra v e voto è che v è una stringa voto è un intero o qua in mezzo ovviamente ci dovrei fare una decina di controlli diversi che v sia numerico che sia maggiore di 18 maggiore uguale minore uguale di 30 concedetemi di non farli tanto sono una serie di if che sappiamo già fare e qui arriviamo all'istituzione cruciale quella della riga 37 l'append voti è una lista vuota vedete qua aperta e chiusa quadra voto è un intero 27 quando faccio append guardatela qua voti tenetela d'occhio questa cartellina qua mentre io clicco di là ecco qua comparso una lista che a questo punto voti è diventata una lista di un elemento che guarda caso è proprio il 27 e poi andando avanti chiaramente continua allo stesso modo faccio un'altra input leggo il 28 invio non è ancora un asterisco lo converto in intero quindi voti adesso una lista di un elemento lo vedete qua voto è il numero 28 e quindi quando faccio l'istituzione append voti conterrà due elementi 27 e 28 quindi voti di 0 vale 27 voti di 1 vale 28 length di voti vale 2 eccetera ok per capire cosa funziona non c'è nulla di meglio che andare un passo alla volta a chiedersi cosa succederà alla prossima istruzione provare a immaginare e poi controllare se succede così ok adesso mettiamoci un asterisco perché lui stampa ed esce ok quindi prima istituzione fondamentale per costruire una lista un pezzo per volta è partire da una lista vuota e poi appenderci dentro aggiungere in fondo ogni volta l'elemento ah io adesso li ho sempre messi in modo di crescente i voti però ricordiamoci che in una lista l'ordine degli elementi è uguale all'ordine di inserimento cioè se io inserissi 28 26 24 22 una gran carriera 20 a scendere asterisco me li stampa nell'ordine in cui li ho inseriti non me li metti in ordine crescente in ordine crescente in ordine di inserimento una volta che ho inserito un elemento in una lista quello rimane lì quando ne aggiungo degli altri che non appende prenderanno le posizioni libere a destra quindi gli elementi che ho inserito il voti di zero rimane quello se inserisco voti nuovi prenderò la posizione 1 poi 2 poi 3 sempre in fondo quindi in qualche modo una lista funziona anche da sequenza temporale si ricorda non solo quali sono i valori ma anche in che ordine le ho inseriti in che ordine le ho aggiunti ok? e questo era append no? dalle slide a volte ci interessa ma aggiungere un elemento ma non necessariamente in fondo cioè append è facile aggiunge in fondo se io volessi aggiungere un elemento a metà o all'inizio di una lista esistente lo posso anche fare con un metodo che anziché append si chiama insert che ha due parametri questa volta la posizione in cui lo voglio inserire e il valore da inserire quindi cosa fa insert va a prendere una posizione che magari già contiene un elemento gli fa spazio e inserisce al suo posto un elemento nuovo come si vede qua dal disegno una lista che prima aveva tre elementi scusate quattro elementi adesso ne avrà cinque ho inserito quello nuovo in posizione uno e quindi quello che prima era in posizione uno emili adesso sarà poi in posizione due quello che prima era in posizione due adesso sarà in posizione tre quello che prima era in posizione tre sarà in posizione quattro la quale in posizione quattro prima non esisteva è più raro avere bisogno di questo è più comodo usare un append di solito insert a volte si usa quando lo vedo usare lo vedo usare con valore zero come primo elemento cioè di fatto inserisco in punta inserire in testa o in punta anziché in fondo fa sì che gli elementi dentro la lista siano ordinati in modo che l'ultimo che ho inserito sia per primo e il più vecchio il più anziano quello che c'è dentro da più tempo è finito in fondo alcune volte può farci comodo averle così ma se no spesso usiamo append adesso abbiamo questi voti e andiamo facciamoci qualche cosa allora il secondo punto dell'esercizio si dice verifichare se lo studente ha preso almeno un voto pari a 18 poi verifichiamo se ha preso almeno un 30 o un 30 lode nell'idea che il 30 lode valga 31 e poi verificare se il numero di 18 che ho preso è minore maggiore del numero di 30 che ho preso ok allora fatemi fare il pigro per favore diciamo che i voti li inseriamo anziché dovrei inserire ogni volta a mano perché qui faremo tante volte run per fare questo esercizio ogni volta in serie di nuovi voti mi fa innervosire quindi mettiamo dei voti a caso 20 18 24 19 18 30 30 lode 27 mettiamo un 19 e un altro 30 va facciamo finta che siano questi i voti che ci servono ok quindi questa parte qua che abbiamo fatto prima che è giusta ma la commentiamo a scopo di debug quindi ho commentato tutto il blocco mettendola dentro una stringa che viene una stringa multilinea con i tripli apici quindi viene saltata quindi è come se ogni volta avessi inserito da tastiera questi numeri ok allora partendo da questi numeri verificate se il studente ha preso almeno un voto pari a 18 ok cominciamo a fare questo poi spezziamolo così almeno ne facciamo un pezzo per volta allora questo lo sappiamo già fare sì verificare se lo studente ha preso almeno un 18 e basta andare a vedere tutti gli elementi della lista e segnarci se per caso almeno uno di questi è 18 quindi potremmo dire che for voto in voti qui vado tranquillo su un ciclo for che lavora sui valori perché non mi interessa la posizione in cui trovo il 18 l'indice 0,1,2,3 perché la domanda mi chiede se c'è o non c'è in qualunque posizione if voto uguale a 18 cosa devo dire posso dire trovato non tanto perché se facessi così questo qual è il problema di questo codice che se trova un 18 lo stampa trovato 18 se trova più 18 lo stampa più volte e se non ne trova nessuno non stampa niente puzza di marcio sta roba la domanda era dimmi se ha preso almeno un 18 o no tu non mi stai rispondendo a questa domanda mi stai stampando una cosa ad ogni 18 che ha preso cioè alla fine di questo ciclo ford io devo avere un'informazione ma questa qua ce l'hai di sotto sì o no è un'informazione booleana sì o no allora quello che devo calcolare è una variabile booleana che mi dica se l'ho trovato o no quindi la posso chiamare trovato 18 ovviamente ogni volta che dentro un ciclo ricordiamocelo sempre legge universale numero 0 dei cicli ogni volta che dentro un ciclo aggiorno una variabile in questo caso ci sono danno un valore questa variabile deve essere inizializzata all'inizio del ciclo prima dell'inizio del ciclo l'abbiamo già fatto prima ricordate dovevo aggiornare modificare voti sono stato obbligato a inizializzarla vuota prima qui sto modificando una variabile dicendo ho trovato 18 ma per default il valore iniziale di questa variabile sarà falso che ha senso cioè prima di cominciare a guardare i voti non lo so se ho trovato 18 per i voti che ho visto finora cioè nessuno non l'ho trovato 18 poi man mano che li guardo se vedo lo trovo e lo me lo segno quindi alla fine dirò se trovato 18 è vero allora print trovato 18 almeno 18 altrimenti potrò dire che il nostro caro amico non ha preso nessun 18 quindi questo è un pattern abbastanza frequente data una lista trovare se c'è almeno un elemento che abbia certe caratteristiche che sia pari che sia simpatico che sia 18 e l'importante è che quando lo trovo non sia precipitoso dire adesso su stampo che l'ho trovato perché magari ce ne sono altri dopo quindi devo aspettare di vederli tutti e alla fine mi chiedo ma poi l'avevo visti li ho trovati e se sì faccio una cosa se non ne faccio un'altra tenete presente che la cosa più difficile è stampare e non ne ho trovato nessuno se non usassi questa variabile logica che ho chiamato trovato 18 non ci sarebbe nessun modo per cui alla fine del ciclo uno possa sapere ma poi alla fine li hai trovati o no ok questo schema vale sempre ho una variabile logica che si ricorda se almeno un elemento aveva certe caratteristiche oppure ho detto almeno un elemento aveva certe caratteristiche si può anche ragionare se tutti gli elementi hanno certe caratteristiche basta invertire falso con vero e quindi partirò da vero dicendo penso che tutti abbiano certe caratteristiche se poi ne trovo almeno uno come controesempio che non le abbia lo metto a falso quindi questo schema qua di ricerca diciamo così va bene sia per ricerca di esistenza esiste almeno uno sia per ricerca di universalità tutti e tutti come vi insegnano i colleghi di matematica è equivalente a non esiste almeno uno che non ce l'abbia poi c'è un caso particolare che quello che ciò che sto ricercando è un valore specifico allora Python mi regala il lavoro già fatto con l'operatore in if 18 in voti cioè questo operatore in attenzione che in l'abbiamo usato sui cicli for che aveva un senso va a prendere uno per uno i vari elementi si può anche usare come operatore booleano ma lo conosciamo già l'abbiamo visto sulle stringhe ricordate una stringa in un'altra stringa ci faceva dire se una stringa era contenuta dentro un'altra equivale anche sulle liste funziona anche sulle liste prendendo un singolo valore in una lista c'è o non c'è c'è nel senso di c'è almeno una volta oppure non c'è manco una volta quindi questo codice qui in realtà è assolutamente equivalente a questa singola riga l'operatore in ok dopodiché se io qua dovessi fare cose più complicate del tipo trova se un elemento è compreso tra 15 e 18 l'operatore in non lo sa fare l'operatore in va a vedere un valore specifico quindi quando sono fortunato che ciò che mi serve è beccare se c'è un valore uso in e non fatico se la mia condizione che devo verificare che qua era riassunta a questa riga 51 fosse più complicata mi devo scrivere la condizione e me la faccio non c'è problema ok e idem se verificare ha preso un 30 o un 30 lode io potrei codificarlo in due modi cioè col primo metodo col ciclo for e la if dentro andando a vedere ad esempio if voto maggiore uguale a 30 oppure in questo caso sono solamente due valori posso scrivere if 30 in voti or 31 in voti allora posso scrivere che ho trovato almeno un 30 o 30 lode nessun 30 né 30 lode qua magari per chiarezza ci metterai un paio di parentesi attenzione sempre quando avete le condizioni complesse c'è un end ci vuole un or cioè se nella lista voti c'è almeno un 30 ok oppure se c'è almeno un 30 lode ok oppure se c'è sia un 30 con 30 lode ok lo stesso questo è ciò che fa oro l'operatore in mi dice se c'è un valore senza dirmi quanti ce ne sono senza dirmi dove si trovano magari non me ne frega niente quindi va bene così però però ad esempio per il passaggio successivo oh se avete dubbi fermatemi per il passaggio successivo che ci chiede di verificare se il numero 18 che ho preso è minore o maggiore del numero di 30 o 30 lode e non mi basta più sapere se c'è almeno un 18 o almeno un 30 beh se per caso non ci fosse nessun 18 e ci fosse almeno un 30 allora sì o viceversa ma se ho sia dei 18 che dei 30 e non so con l'operatore in non mi dice quanti ce ne sono di più e allora li devo contare quanti 18 ho preso eh conta 18 uguale 0 for voto in voti if voto uguale 18 conta 18 più uguale 1 e poi la stessa roba con il conta 30 conta 30 uguale 0 for voto in voti if voto uguale 30 or voto uguale 31 conta 30 incrementalo di 1 no? dei contatori che sai gli esercizi che facevamo l'eddy inserisce i numeri conta quanti numeri pari sono stati inseriti eh la stessa cosa semplicemente anziché inserire i numeri li vado a prendere dalla vista uno a uno e li confronto e li conto e alla fine posso chiedermi se conta 18 minore di conta 30 dirò dirò hai più 30 che 18 30 barra 30 lode poi c'è il secondo caso conta 18 è maggiore di conta 30 allora dirò che hai più 18 che è 30 30 lode e poi altrimenti dirò che hai lo stesso numero di 18 e di 30 30 lode tra l'altro dobbiamo poi ragionare bene a tutti i casi particolari io ho buttato giù il codice di getto perché è facile però dobbiamo chiederci ma se non ci fosse nessun 18 cosa capita? se non ci fosse nessun 18 questo codice funziona ancora o si impalla? e queste if sotto funzionano ancora? beh sì in questo caso sì perché se non ci fosse nessun 18 questo contatore che l'ho messo a 0 non sarà mai incrementato e quindi rimarrà a 0 non è che manca la variabile o fa cose strane e quindi in questi confronti ci sarà 0 minore del numero di 30 e così via però ricordiamoci sempre che il sospettoso che è in noi deve sempre pensare ok questo è il caso semplice ma poi tutti i casi malati come si comporta? tutti i casi particolari i casi limite che è dove il programma di solito si pianta due note su questo se sapessi se avessi saputo se avessi letto avanti che mi serviva a un certo punto contare quanti 18 avevo preso non avrei fatto questo da qui ho fatto un ciclo per sapere se ci sono dei 18 si no poi più avanti dico quanti sono questi 18? eh vabbè allora facciamo che contare quanti sono e se poi se sono maggiori di 0 vuol dire che ce n'erano ok quindi ovviamente il conteggio mi dà più informazione rispetto semplicemente all'esistenza quindi io avrei potuto scrivere semplicemente questo il conteggio e poi qua anziché if trovato 18 if conta 18 maggiore di 0 quindi questa è la prima osservazione qui abbiamo fatto il programma a blocchi ogni blocco ragioniamo indipendentemente ma poi nella economia complessiva del programma magari si poteva risparmiare seconda osservazione qui ho un ciclo for che fa una cosa qui ho un altro ciclo for che fa un'altra cosa sugli stessi numeri allora è più furbo far così o è più furbo metterli insieme? e per metterli insieme intendo una cosa di questo genere cioè faccio un ciclo solo sui voti prendo un elemento per volta e una volta che ho l'elemento in mano gli chiedo ma senti ma tu sei un 18? oppure tu magari sei un 30? se si incremento tizio oppure caio le variabili che mi servono e vado avanti ovviamente se visto che qua dentro la regola aura dei cicli modifico una variabile deve essere azzerata prima modifico un'altra variabile anche questa deve essere azzerata prima però faccio un ciclo unico in cui guardo contemporaneamente più proprietà dei dati che incontro poi in questo caso qua ci poteva anche stare un ELIF perché il fatto che sia 18 il fatto che sia 30 siano incompatibili tra di loro quindi se ho visto che è 18 non mi serve neanche guardare se per caso fosse 30 perché non lo sarà di sicuro allora dovrò andare a capire se queste varie condizioni sono mutuamente esclusive oppure una volta che ne trovo una non devo più guardare le altre o non voglio più guardare le altre oppure lascio l'IF e allora vuol dire che è possibile non con 18 di 30 ma con altre due condizioni che sia vera sia l'una che l'altra e allora vado a incrementare sia l'un contatore che l'altro contatore se mi chiedessero quanti voti sono pari e quanti voti sono multipli di 3 oh, il 18 e il 24 sono sia pari anche il 30 sono sia pari che il multipli di 3 incremento tutte le due volte non devo escludere il fatto che sia un multipli di 3 perché ho già visto che è pari però lì va nel merito di che cosa voglio verificare ovviamente il risultato è assolutamente equivalente io sono sicuro che qualcuno di voi trova più leggibile questo qualcun altro trova più leggibile questo o più compatto o più facile da capire sono tutti e due giusti quindi non ci poniamo un grosso problema qualcuno può pensare eh ma questo qua è più efficiente questo sotto è più efficiente perché ciclo una volta sola sulle sui valori allora prima che ci veniamo a pensare se risparmiare 32 nanosecondi vale la pena oppure no smontiamo subito il concetto sì è vero che è più efficiente è un pochino più veloce perché complessivamente fa meno operazioni ma di una differenza talmente marginale che su questi dati qua è impossibile da misurare quindi ragioniamo in termini di sempre la nostra priorità è facile da scrivere facile da leggere che vuol anche dire facile che sia giusto cioè difficile che contenga degli errori ok quindi queste sono le nostre metriche principali per giudicare se preferiamo in un modo o nell'altro mi è venuto in mente di farlo così? va bene mi è venuto in mente di farlo cos'ha? va bene lo stesso mi è utile saper passare una forma all'altra o vedere che ci sono più forme possibili? questo sì adesso poi entro in modalità pigrizia e mi chiedo ma non è che per caso Python c'è già qualcosa fatto per me che già mi conta le cose? sì che si chiama count if cioè il nostro conta 18 potevo semplicemente scrivere voti punto count 18 cos'è il metodo count? la documentazione è talmente succinta che dice restituisce il numero di occorrenza di un determinato valore conta quanti volte c'è il 18 e conta 30 ovviamente sarà lo potrei calcolare come voti punto count di 30 più voti punto count di 31 e poi posso mettere quel live di sopra questo me lo tengo ovviamente se c'è una funzione che mi serve in questo caso il metodo count e mi ricordo che c'è la uso però io preferisco partire dal provo a farlo a mano perché poi magari non c'è la funzione che mi serve o non va esattamente nella mia direzione se mi avessero chiesto appunto quanti voti sono pari non c'è count di pari l'argomento di count è un valore specifico mi conta quante volte quel valore specifico lì compare non un qualunque valore pari o un valore compreso tra 20 e 26 per carità dovrei fare 20 poi 21 poi 22 poi 23 ma alla fine faccio un ciclo sui count e ho fatto un ciclo sui valori mi sto incasinando da solo ok quindi noi noi alla fine in parallelo stiamo alimentando la nostra mente da due punti di vista diversi uno la ginnastica di base sulle liste quali sono le operazioni elementari che dobbiamo fare aggiungo cerco trovo eccetera conto e dall'altro un po' di scorciatoie per operazioni più comuni c'è già un costrutto del linguaggio che mi risparmia il lavoro ma che comunque mi so gestire perché quella volta che quel costrutto del linguaggio non è esattamente adatto a ciò che mi serve non c'è problema torno alla ginnastica di base adesso qui tutto bene? adesso ricordiamoci che tra un po' torniamo a casa a Natale e dobbiamo far vedere ai genitori dei voti più belli di quelli che abbiamo preso allora non li vedo ancora presi adesso ma ragioniamo in prospettiva allora costruiamo dei voti migliorati cioè dai voti che ho sommo uno a tutti i voti maggiori 24 e sommo due a tutti i voti maggiori 18 purtroppo non posso trasformare una bocciatura in una sufficienza e ovviamente se ho già 30 30 roddi non ce lo sommerò quell'uno ok allora miglioriamo il nostro libretto stampiamo i voti di partenza e poi per ogni voto fatemela fare facile aggiungiamo un punto a tutti poi dopo andiamo a mettere il distinguo facciamolo per gradi for voto in voti voto uguale voto più uno fatto print voti nuovi migliorati print voti fatto fatto per modo di dire perché devo appunto vedere se sommo uno sommo due ma questo lo mettiamo a posto solo che non va perché se guardo questa print mi ha stampato questi voti poi ho incrementato di uno ogni voglio allora guardiamola bene questa for prendo un voto per volta e l'abbiamo sempre fatto sto for è lo stesso for identico che avevamo sopra sempre funzionato il voto che ho lo sommo uno e lo sostituisco e quindi alla fine di tutto stampo i voti che in realtà sono uguali cosa è successo cosa è successo allora andiamo in debug che magari ci sa rispondere no no abbiamo pensato giustissimo allora aspetta tolgo questo breakpoint arriviamo qua perché c'è ancora un breakpoint qua vattene via ok qui ho voti ok voti è questo ciclo e a 6 voto la variabile voto assume il valore 20 che è quello del primo voto la prima iterazione sto prendendo il primo elemento perfetto voto uguale a voto più 1 allora adesso sto modificando la variabile voto che da 20 diventerà 21 però guardate un po' la variabile voti la lista in prima posizione c'è ancora il 20 allora qua torniamo indietro di un mese e mezzo la prima lezione che vi ho detto attenzione la differenza tra variabili e valori la variabile voto alla prima iterazione ha assunto il valore del primo elemento della lista 20 poi quando ho fatto voto uguale a voto più 1 che cosa ho preso? ho preso il 20 ho calcolato un altro numero 21 e ho ridefinito la variabile voto affinché puntasse a questo 21 quindi ho calcolato un valore che c'entra o non c'entra col 20 di prima non importa ho calcolato un valore e ho detto la variabile voto adesso vale 21 il fatto che la variabile voto un attimo fa fosse stata presa come copia del valore che c'era nella lista non importa ho preso la variabile voto l'ho fatta diventare 21 la lista non se ne accorta non lo sa non è roba sua cerchiamo di vederlo anche graficamente se riesco a far funzionare python tutor e mettiamo i voti e poi queste tre righe allora qui ingrandisco un pochino allora ho inizializzato una lista una lista voti ora ho un po' cosa fa python dentro io ho una variabile che si chiama voti ricordate python tutor azzurro le variabili giallo i valori ho una variabile che si chiama voti cos'è questa variabile è una lista questa freccia porta a un oggetto di tipo lista punto l'unica cosa che sarà la variabile voti come è fatta questa lista beh c'è tanti elementi ha 10 elementi ok da 0 a 9 questi sono gli indici l'elemento 0 punta al valore 20 l'elemento 1 punta al valore 18 l'elemento 2 punta al valore 24 questi sono tutti i numeri interi che sono sparsi per la memoria e ciascuna cella ciascun elemento della lista va a far riferimento a uno specifico valore ok quindi se avete purtroppo le slide ci ingannano no? perché quando nelle slide avevamo disegnata una lista così con le caselline i numeri dentro non è fedele come rappresentazione cosa fa python dentro la memoria è questo una variabile una lista e ciascun elemento della lista è un valore quindi la lista è stessa è un valore e i singoli elementi sono valori e le frecce dicono quale valore è raggiungibile da una determinata posizione della lista for vuoto in vuoti quando io faccio for vuoto in vuoti che cosa faccio? prendo il primo indice della cella e assegno alla variabile voto quel valore quel valore non quella cella quindi qualunque cosa contenesse la cella 0 la variabile voto adesso ne è un sinonimo io posso chiamare quel 20 lì lo posso chiamare voto lo posso chiamare voti di 0 è sempre lo stesso oggetto l'oggetto 20 fin qua giusto il problema è la risoluzione successiva quando ho fatto voto è uguale a voto più 1 voto più 1 crea da qualche parte un oggetto 21 e dice senti la variabile voto che un attimo fa l'ho messa a 20 adesso la metto a puntare al nuovo oggetto 21 nessuno sta toccando questa freccia qua quella che dalla prima casella della lista voti sta puntando al 20 e continua a puntare al 20 proprio non frega niente alla casella 0 della lista voti di che cosa faccio io con la variabile voto e infatti se vado avanti in istruzione vedo che voto adesso va giù a 21 non c'era spazio da mettere l'ho messa qua e voti di 0 ma tranquillo pacato nessuno gli ha fatto nulla poi vado avanti con il ciclo di nuovo alla seconda iterazione cosa è successo voto adesso punta qua perché punta qua ma perché la seconda cella della lista punta al valore 18 e quindi voti voto scusate prende la copia di quel valore in gergo chiamiamo alias cioè sono due frecce che puntano lo stesso valore sono due sinonimi poi incremento 18 farà 19 e quindi il voto punterà al 19 che in questo caso c'era già e quindi riuso un 19 che c'era e quindi calcolo voto lo assegno lo dimentico lo riscrivo lo assegno lo calcolo lo dimentico lo assegno lo calcolo lo dimentico e la lista non la tocco come posso fare per cambiare il valore contenuto nella cella 0 e l'ho detto devo modificare il contenuto della cella 0 devo modificare voti di 0 questa freccia qua che adesso viene iniziata in rosso deve essere spostata e come si chiama questa freccia voti di 0 se io mi sono fatto una copia di quella freccia e modifico la copia è la freccia originale non cambia quindi accedere agli elementi di una lista con un ciclo for così va benissimo fin tanto che non devo modificare il contenuto della lista se lo devo modificare devo andare a modificare il contenuto della lista non i valori ok e quindi vorrà dire che semplicemente farò il ciclo sugli indici e quando devo incrementare incremento voti di 1 voti di uguale voti di più 1 che è radicalmente diverso proviamo a fargli un run e vediamo che i voti nuovi sono diversi da quelli precedenti andiamo a vederlo anche di là graficamente così si imprime nella nostra memoria visiva qui adesso quando apro il ciclo for sto agendo sugli indici e non sui valori quindi quando entro nel ciclo for i uguale 0 che non c'entra nulla con nessuno dei valori della lista i uguale 0 poi voti di i voti di i a questo punto è voti di 0 sarà 20 20 più 1 fa 21 e lo metto dentro voti di i adesso se andiamo a vedere teniamo d'occhio questa freccia qua cosa fa? si sposta a 21 abbiamo sempre calcolato 21 ma al 21 non abbiamo schiaffato una variabile che poi muore abbiamo aggiornato il riferimento interno della lista il valore della lista dell'elemento della lista e andando avanti succede così su tutti i diventa 1 e quindi questa volta modificherò questa freccia qua voti di 1 18 che diventerà 19 ok ogni volta lo capiremo meglio più avanti questa frase che sto dicendo ogni volta che uso il segno di uguale sto rompendo un alias che eventualmente ci fosse stato prima perché ridefinisco una variabile e se prima quella variabile puntava allo stesso valore di un'altra variabile ridefinendo una delle due si rompe la sinonimia si rompe il fatto di avere due nomi diversi che puntino il stesso valore punteranno due valori diversi e quindi modificando l'uno non rimane modificato l'altro ok quindi attenzione modificare gli elementi di una lista il valore degli elementi di una lista si può devo però modificare direttamente parentesi quadre questo lo modifico questo se vogliamo è il primo gradino molto che differenzia di molto le liste dalle stringhe perché una stringa non si può modificare se voi provate a fare una cosa del genere con le stringhe vi dice no la stringa è mutabile invece no la lista è mutabile si può modificare quindi ci crea tutti questi problemi nel capire bene cosa vuol dire modificarla ok si può fare in modo diverso questo un problema che ci vedo è che avendo fatto questa operazione del libretto fake da portare a casa non ho più il libretto vero perché ho modificato i valori del libretto vero vabbè poi qua in realtà dovrei dire se il voto è maggiore di 24 somma ad 1 altrimenti somma va bene dai ci fidiamo che lo sappiamo fare come faccio ad avere contemporaneamente il libretto vero e il libretto fake ho due possibilità una è la più semplice mi faccio una copia del libretto e modifico la copia quindi chiamo una voti fake uguale list di voti e poi modifico voti fake così ho fatto ho lavorato su una copia ho modificato la copia ma la variabile di partenza è rimasta immutata infatti i voti originali sono ancora questi i migliorati sono questi gli originali non sono cambiati vabbè fin lì niente di speciale facciamo solo attenzione all'istituzione 108 faccio una copia di una lista in un'altra lista avrei potuto scrivere sbagliando voti fake uguale voti perché se facessi così vado a vedere che i voti di partenza erano questi quelli migliorati sono questi ma quelli originali non sono più originali sono stati modificati anche loro perché c'è una grossa differenza da queste due istruzioni vediamola anche qui di là l'istruzione questa la conosciamo già è la variabile voti l'istruzione voti fake uguale voti cosa fa crea una nuova variabile che si chiama voti fake e assegna a questa variabile lo stesso valore della variabile voti e il valore della variabile voti che cos'è? questa freccia qui quindi stiamo creando un'altra variabile che punta che punta alla stessa lista quindi che poi noi andiamo a modificare il valore di voti o di voti fake in realtà quella è la lista stiamo sempre modificando quella ce n'è una sola di vista che ha due nomi questo è il motivo per cui modificando gli elementi di voti fake stiamo andando a modificare in realtà questo elemento qui e che io lo veda attraverso voti fake di zero o attraverso voti di zero in entrambi i casi è sempre il 21 qui noi abbiamo creato una seconda lista no, perdono abbiamo creato un alias alla lista esistente non abbiamo creato una seconda lista invece l'altra variante list di voti funziona in un modo completamente diverso list è una funzione che prende una lista e crea un'altra lista popolandola con i valori della lista vecchia quindi stiamo creando una nuova lista a cui arrivo dalla variabile voti fake che è diversa il contenitore giallo lì sono due sono due cassetti distinti in fase iniziale i contenuti dei cassetti della seconda sono uguali ai contenuti dei cassetti della prima ma poi da quel momento in avanti sono indipendenti e quindi quando io andrò a modificare i valori della prima vedete che le freccioline del cassetto in basso si stanno spostando le freccioline del cassetto in alto invece sono tranquillissime e nessuno le sta toccando ok? quindi un conto è fare creare un sinonimo di una lista esistente uguale un conto è fare una copia di una lista esistente la differenza tra alias e copie è cruciale dobbiamo capirla per quello che stiamo allenando sui disegnini per crearci il giusto modello mentale delle operazioni che stiamo facendo quindi quando faccio una copia mi devo sempre chiedere sto facendo una copia della variabile della frecciolina iniziale o una copia del valore creo un nuovo cassetto un nuovo contenitore che inizializzo con le nuove liste volendo si può bypassare tutto questo ragionamento evitando di modificare una lista sempre con questo esempio qua dei voti fake noi abbiamo detto prendo un libretto e lo modifico no guarda non lo modifico prendo un libretto e ne faccio una copia modifico la copia benissimo un altro modo sarebbe potuto essere creo da zero un nuovo libretto buttandoci dentro voti presi dal libretto vecchio e taroccati quindi in questo caso avrei detto senti creiamo una lista nuova voti fake vuoto uguale lista vuota prendo un libretto vecchio nuovo vuoto e ci metto dentro i voti che sono un pochino più belli dei miei for voto in voti voti fake 2 append voto più uno cioè prendo uno uno i voti del mio libretto gli sommo uno e gli schiaffo in fondo al nuovo libretto in questo caso non ho problemi non sto modificando il libretto iniziale sto costruendo un pezzo per volta il libretto nuovo se lo vogliamo vedere nei disegnini vabbè dai non è che proprio adesso devo pagarti stiamo creando una nuova lista voti fake 2 che parte vuota e poi giro per giro prendo il voto 20 calcolo il 21 e ci metto il 21 dentro poi prendo il secondo voto 18 gli sommo uno e lo aggiungo vedete l'effetto dell'append qua sotto quando faccio append si crea una nuova casellina che punta al valore che deve avere quindi spesso abbiamo questa scelta modifico una struttura di dati esistente oppure ne costruisco una nuova ribaltando i valori esistenti o modificandoli poi nel ribaltamento in questo c'è la funzione list che fa una copia tale quale di una struttura di dati esistenti quindi ne costruisce una nuova ricopiandola uguale che è un passaggio che ci serve possiamo usare la funzione list crea una lista è come scrivere aperta quadra infatti per creare una lista vuota potrei scrivere così oppure potrei anche scrivere voti fake 2 uguale list la funzione list se non gli do nessun parametro mi crea una lista vuota se gli do un parametro mi crea una lista inizializzandola con i contenuti di una lista esistente ecco già che siamo in vena di quiz secondo voi si potrebbe far così allora ricapitolando abbiamo scritto voti fake uguale list di voti crea una nuova lista ci copia dentro i contenuti della lista precedente voti fake uguale voti non crea una nuova lista ma crea una nuova variabile che punta e condivide la stessa lista di prima voti fake uguale aperta quadra voti chiusa quadra perché io vi ho detto ma guarda che scrivere list è come scrivere qua no vi ho detto lista vuota è come scrivere list aperta e chiuta tonda allora magari anziché scrivere list di voti posso scrivere quadra voti questo fa una cosa completamente diversa questa istruzione nella riga 123 crea una lista di un elemento perché aperta quadra una cosa chiusa quadra un elemento il quale elemento è una lista tranquilli che a python non viene mal di testa viene prima noi cioè se io lo scrivo lui crea una nuova lista aperta quadra crea una lista quanti elementi ci sono dentro la parentesi quadra? una perfetto cosa ci mettiamo dentro questo elemento? una freccia che va al valore contenuto quel valore non è 22 è voti cosa è voti? una lista va bene allora la mia lista nuova conterrà un elemento che a sua volta è una lista tranquillo voti fake è una lista di un elemento il cui valore quindi voti fake di zero a sua volta è la lista dei voti vecchi quindi non è proprio quello che vogliamo ci tornerà comodo fare liste di liste una lista che contenga a sua volta delle liste però per ora non è quello che ci serve per prendere il primo elemento dovremmo scrivere voti fake di 3 di 0 di 0 a doppio indice ma questo lo vediamo quando parliamo delle tabelle quindi per carità sono piccole varianti di sintassi che però hanno degli effetti completamente diversi quindi questo qua no crea una nuova lista con un elemento che è un alias alla lista precedente alias e non copia vedete che sto condividendo questa lista quindi a questo punto scrivere voti di 4 oppure voti fake 3 di 0 di 4 è la stessa cosa dico di 0 perché qua in mezzo c'è una lista di un elemento solo quindi per accedere all'elemento sono obbligato ad usare l'indice 0 è l'unico indice che ha questa lista ok? allora qui avevo lasciato un altro paio di esercizietti da fare e ce li portiamo dietro chiaramente mercoledì sempre di questo stampo impariamo uno a uno i vari metodi che servono per lavorare sulle liste cercando di ragionare anche sulle trappole che ci sono e sui modi giusti di usarli se volete io quella già indicata darvi un'occhiata a quello che c'è sulle slide il secondo è facile il primo si porta dietro un po' dei ragionamenti che abbiamo fatto sul libretto se vi è annoiato a fare integrali e limiti mercoledì li facciamo insieme ok? va bene buona salata grazie a tutti grazie a tutti